Il punto di vista è di 30 voti invece dell'ex presidente della Pd5, Giulia Di Rocco e una del Antonella Prima Dotta, ha candidato alla presidenza della Pd5, Gampi di Lecranio, giunta che per la prima volta avrà citto presente a Pd5, proprio come due donne sono state scelte per la vicepresidenza del Coni, Silvia Sardis e Claudia Giordano. Sousa